Sono i punti su cui si sta lavorando la trattativa, qui sono coinvolti anche nel segnato che i colori di faccia del governo, a Dullà, il termine pari del Presidente Fugitivo Ghani e Garzai, il primo Presidente dell'Afghanistan, dopo l'intervento dell'Occidente. Un difficile può forse l'usorio del processo politico di integrazione con i talebani e quindi a rappresentare tutte le realtà del Paese. Grazie a tutti.